oggi vedremo come si monta una tanda con i pali ad aria sappiamo che ci sono le tende possono definirsi tre tipi quelle tradizionali quelle ibride e quelle con i pali gonfiabili ad aria noi lo faremo vedere una di questo tipo fermo restando che l'inizio e buona parte di quella che è la procedura per montarla è assolutamente identica quindi andiamo a vedere intanto di cosa si tratta abbiamo una tenda a pali gonfiabili che è della remo ed è una marina air 4.9 è completamente nuova e da questo momento in presa diretta con voi l'apriamo sulla roulotte e vi facciamo vedere come si fa a due secondi tra poco e ci siamo la prima operazione a fare è quella di slacciare i lacci che vedete sono questi che in questa maniera maniera molto semplice iniziamo a liberare il sacco il sacco avrà una cerniera anche eccola qui a questo punto dentro c'è il manuale di istruzioni che ovviamente è un manuale comune ai modelli in questo caso la 2.9 la 3.9 e la 4.9 che è il nostro modello ma le istruzioni sono assolutamente simili il manuale di istruzioni è in tedesco e in inglese ma tanto a voi non ve ne importa nulla perché sto facendo vedere in italiano come funziona e quindi a noi serve in parte e altrimenti non ci serve tutto ciò che serve è necessario per montarla è contenuto qui dentro è ovvio che una volta che sarà tutto da riporre voi sperate voi vi illudete di fare come fanno loro in fabbrica impossibile ed è per questo che intelligentemente la sacca è più grande di quello che è l'involucro attuale così dopo si potrà con comodo con calma riporre tutto ciò che serve per prima cosa va liberata e va liberata vanno liberati questi lacci e l'altro deve essere da qualche altra parte eccolo qua eccolo vedete in questa maniera possiamo srotolare il contenuto e vedrete che pian piano troveremo tutto ovvero cosa troveremo troveremo la pompa i pali il sottoscocca molto importante molto più di quanto non si creda e in ultimo il sacchetto con i picchetti attenzione perché per quel che riguarda sia i picchetti e la pompa non è detto che sempre ci siano ovvero in questo prodotto commercializzato dalla remo ci sono sovente su internet troviamo dei prodotti che sembra che costino meno ma semplicemente perché manca uno dei due accessori oppure perché picchetti magari sono di bassa qualità in plastica ovviamente sono operazioni che riducono il prezzo poi uno alla mare a sorpresa quando prova a montarlo che gli manca una cosa gli manca un'altra si spacca questo quindi attenzione ogni volta che si compra comprate dove volete ma ogni volta controllate le specifiche deve esserci tutto altrimenti a quel prezzo lì va aggiunto qualcos'altro a questo punto ci saremo trovati con questo immenso saccone con questo immenso telo e non sapremo che cosa farci niente panico è semplicissimo è veramente una soluzione semplice perché noi per poter utilizzare la veranda la prima cosa che dovremmo fare è infilare la guida nella canna linea della roulotte quindi dovremo cercare questa guida e la guida è questa qui vedete è molto semplice quindi cercate la parte terminale che praticamente quella che andrà a chiudere la coda della roulotte e l'andate inserire nella parte anteriore facilissimo oppure la parte anteriore della guida della veranda la inserirete nel posteriore come preferite tendenzialmente si inizia sempre dall'anteriore questo per motivi di praticità ma voi siete liberi di fare quello che volete bene quindi questo è il posteriore della veranda e questa è la parte anteriore della caravan adesso procediamo abbiamo detto che la guida questa qui la dobbiamo mettere nella canalina la canalina come vedete ha un invito è molto facile da trovare ecco io spero che nella vostra roulotte la barra di rinforzo non l'abbiano messa proprio dove c'è l'invito ma l'invito l'abbiano messo un po più in alto un po più in basso la barra di rinforzo poi perché qui è molto difficile spero che nella vostra caravan non sia così difficile vedete in questa maniera si inserisce è molto semplice e come vedete rimane già bloccato rimane già inserito quindi questa operazione bisogna essere in due a farlo un'operazione che implica un minutino se sia in due facilissima la si fa e a quel punto abbiamo già la veranda che è ancorata saldamente alla nostra ruolo visto cosa è successo in neanche due minuti siamo riusciti a fare il grosso del lavoro ovvero quello di inserire nella canalina la nostra guida quindi a questo punto la veranda è già inserita ovvio che poi bisognerà districarsi nel gestire la veranda perché perché su questo modello la veranda e quelle equipagli ad aria non sono così grandi come quelle tradizionali quindi hanno delle dimensioni standard in questo caso rispetto alla nostra cosa succede con la dimensione standard nostra che è la maggiore ma anche la roulotte grande che o rimane chiusa la finestra anteriore della dinetta oppure quella posteriore della camera da letto come vedete dobbiamo solo decidere se tenere chiusa questa oppure se tenere chiusa questa ma questa è una questione di gusto personale ognuno di noi può scegliere benissimo come preferisce ci mancherebbe altro l'importante è che il gioco è fatto e adesso andiamo a gonfiare i pali è il pratico sacchetto dentro cui troviamo la pompa come vedete ha anche una sicura sulla corda quindi da sarà aprirlo e ovviamente questa è nuova quindi troviamo il tutto in un cielo fatto che poi butteremo mia e questa è la pompa dovremo andare a montarla vedete c'è anche indicata la pressione è abbastanza semplice in un vedete qua c'è in flash quindi andiamo a inserire il tubo in avvitamento lo chiediamo bene dopodiché l'altro tubo lo inseriamo qua e il gioco è fatto andiamo a individuare le valvole come vedete a remo utilizza un pratico seno che copre la valvola e la preserva da eventuali intemperie o altro questo poi dipende perché ogni produttore ha la sua soluzione insomma questa però secondo me è decisamente molto ma molto pratica una accortezza quando si apre la valvola queste valvole come vedete hanno molte ghiere quindi si può aprire a più livelli dovete quindi tenere con due dita fermo la ghiera sottostante in maniera tale da riuscire a aprire quella che interessa a noi con estrema facilità da questo punto non resta altro che inserire il tubo ecco fatto nell'alloggiamento previsto e iniziare quella che è l'opera di pompaggio se avete cani sappiate già che questo è il gestito che vi aspetta come vedete il primo palo lo abbiamo già gonfiato è stata un'operazione molto semplice adesso non si tratta di tra l'altro che togliere il tubo della pompa chiudere per chiudere fate esattamente quello che faccio io dito sulla parte centrale superiore a pompa e ruota con la ghiera lo chiedete e siete a posto non ci resta da far altro che gonfiare tutti gli altri pali stavo guardando con soddisfazione una delle cose che contraddistingue le verande a pali gonfiabili da quelle ibride è proprio la presenza di pali rigidi ovvero oltre avere i pali gonfiabili aria ne hanno alcuni rigidi di supporto che servono per tenere il tutto in maniera più rigida ora questi pali rigidi se sono appunto rigidi in alluminio in qualche lega particolare ma se sono rigidi vuol dire che la veranda a pali gonfiabili è di tipo ibrido se invece anche questi sono ad aria allora una veranda con pali gonfiabili ad aria propriamente detta in questo caso ci siamo accorti che è ibrida infatti qua possiamo vedere che al suo interno troviamo dei pali che siamo chiamati a montare ed ecco qua questo è uno è un palo telescopico interno quindi apriamo questa leva lo allunghiamo di quello che ci serve perché diamo la leva adesso venite dentro che vi faccio vedere esattamente come se fosse nella veranda di casa vostra allora se vedete bene qui vedete allora in questo invito io metto il palo in quest'altro metto l'altro palo allargo bene e poi chiudo e il gioco è fatto ora ditemi cosa c'è di più facile di un'operazione del genere la ripeteremo per tutti i pali uno degli oggetti più sottovalutati nelle caravan è questa parte componente alla veranda che deve essere inserita nel sottoscocca è una delle componenti più sottovalutate dai caravanisti in realtà questa componente andrebbe per tutto il perimetro delle caravan solo che purtroppo su molte caravan la parte posteriore quella anteriore non hanno più gli inviti li avevano una volta adesso scomparsi perché consente di isolare al meglio il pavimento e quindi la scocca dal clima che c'è esternamente e quindi dal caldo o dal freddo vedete anche in questo caso c'è una guida c'è una canalina e basterà inserirlo nella canalina e il gioco è fatto e come vedete stiamo parlando di un accessorio che si monta facilmente ed è indispensabile una volta che avremo montato anche questo i pali abbiamo già detto abbiamo montato il gioco è fatto voi avete la vostra veranda montata potrete godere quello che volete una lunga vacanza perché grande quanto una veranda tradizionale oppure anche solo un veloce weekend perché abbiamo visto che non fine a settimana 30 minuti ci vogliono per montarla quindi non è che ci vuole tutta la scienza ci basta veramente se non siete ancora senza le prime armi 30 minuti quando poi sarete più capaci allora in un quarto d'ora vela monterete io con questo ho chiuso vi saluto da questa remo marina 4.9 e ci vediamo quest'estate perché con questa veranda faremo un test di quelli massacranti vi ricordo che con questo test ci sono verande che non ce l'hanno neanche fatta perché noi quando facciamo un test facciamo un test